Aspetta, 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 guà, 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 si inizia un altro? Cos'è questo? La musica? No, ma ti sto zaccando col mestolo, Marco! No, mi siete da martellate! Ma la parrucca, i miei capelli spariscono, ma dove stia? Ma cosa sono qua? Stai adesso col mestolo, vai, vai! Aspetta, aspetta! Ci vediamo domenica 19 aprile in diretta Facebook su Startup Comedy Con Natale, con i tuoi, Pasqua pure! Cattivissima, con la scarpa! Ma sei parlando di una scarpa! Sei parlando di una scarpa! Ma vabbè, la prossima volta ti zacco con un lamantino, guarda, con un lamantino!